Inventing 2021, sempre qui in diretta da Inventing 2021, lo sapete due giorni insieme con un volto abbastanza noto, vorrei dire in questo caso. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie mille di essere qui. Allora, appena passata la plenaria, una plenaria che hanno tutti detto interessante, interessantissima, anzi, i posti erano finiti, non ci hanno fatto entrare, cosa ci siamo persi allora? Beh, è stata molto interessante proprio come uno sguardo totale, panoramico sul mondo delle organizzazioni non governative, su come si possono raccogliere i fondi, sul ruolo degli ambasciatori, dei testimonial e quindi c'era un panel molto interessante di professioni che spiegano quanto sia importante che questo lavoro esista, che continui, che sia sempre più trasparente, più efficace. La parola trasparente è una parola molto interessante perché, insomma, Cristina Parodi è qui in qualità sia di giornalista, potremmo dire che giornalista, ma anche di testimonial in questo caso. Assolutamente, soprattutto di testimonial di Cesvi. E quindi la trasparenza, insomma, è importante anche in queste cose, come dicevo poco fa. Testimonial, come è stata questa esperienza? Com'è questa esperienza da testimonial? Allora, l'esperienza con Cesvi continua da 30 anni, per cui per me Cesvi è una famiglia. È un'esperienza bellissima, io dico sempre che dà veramente un senso più profondo e più importante al mio lavoro, alle mie capacità di comunicare, di essere portavoce di messaggi importanti. Cesvi l'ho conosciuto davvero negli anni 90, appena arrivata a Bergamo, perché è di Bergamo e con Cesvi è iniziata una collaborazione veramente molto, per me, felice e interessante perché mi ha permesso di vedere da vicino quello che fa, i suoi progetti, credo che il ruolo di un testimonial, io preferisco definirmi ambasciatrice di Cesvi perché questo sono oramai da tanti anni, è proprio quello di andare sul campo, capire che cosa fa come lavora e raccontarlo nel modo più semplice alle persone, in maniera tale da permettere loro di comprendere quanto sia importante il lavoro di cooperazione e sviluppo a livello internazionale, perché questo ha fatto Cesvi da 30 anni, ma che si è riconvertito poi in un lavoro anche fondamentale su Bergamo, la città dove è nato, nel periodo della pandemia. Cesvi forse proprio reincarna in pieno questo reinventing, no? Sì, si è proprio reinventato. Dovessi reinventare nel giro di pochissimo, scoprendo che le necessità che appunto fino a pochi minuti prima si portavano oltre l'equatore, ahimè, bisogna portarle sotto casa quasi. Come è stata quella fase? Sicuramente l'avete seguita da vicino? Sì, è stata molto interessante, dolorosa e difficile per noi di Bergamo, però è stata una grande soddisfazione vedere come Cesvi, che inizialmente in tutti questi anni era una realtà molto conosciuta all'estero, proprio per la bravura degli italiani nel fare questo tipo di lavoro, sia stata in grado di riconvertirsi sul territorio bergamasco nel momento in cui c'era un'estrema necessità di raccogliere i fondi. Per me è stata un'esperienza fondamentale perché ha dato un senso a quella immobilità alla quale tutti siamo stati costretti, perché ci siamo confrontati, abbiamo capito che lì doveva partire una raccolta fondi importante ed abbiamo fatto un lavoro enorme per recuperare tutti i materiali che inizialmente non c'erano, dalle mascherine ai materiali di protezione, ai ventilatori, fino ad arrivare a creare poi una rete di protezione e di aiuto alle persone più fragili, agli anziani, che sono quelli che sono stati più colpiti nella nostra zona dalla pandemia e quindi abbiamo creato, Cesvi ha creato veramente una rete che continua e questa è la cosa bella, che non è finita con la fine dell'emergenza perché l'aiuto alle persone anziane, la possibilità di far qualcosa per loro è una realtà che continua anche a Bergamo e che è utilissima. L'ho chiesto a tutti, anche che li sono passati prima di te Cristina, reinventing, Cristina parola di come si reinventing adesso? Io mi sono parecchio reinventata perché dopo aver lavorato per tanti anni in televisione ho cambiato abbastanza vita e ho creato due anni fa un'azienda, un brand di moda, era il mio sogno da tanti anni con una mia amica. Non è stato facile, anche perché dopo averci pensato a lungo abbiamo esordito proprio nel periodo in cui la moda si è fermata, però è veramente una grande soddisfazione riuscire a cambiare i propri obiettivi, a inseguire i propri sogni, a fare impresa a 50 anni suonati, un'impresa tutta femminile, tutta made in Italy, totalmente sostenibile, a dimostrazione del fatto che oggi non credo che esista più il senso di fare un lavoro per tutta la vita. Tu hai delle conoscenze, una tua background di know-how che puoi riconvertire, reinventare in un altro modo e io l'ho fatto, lo sto facendo con grande passione, umiltà, imparando giorno dopo giorno come si fa a fare impresa, che era una cosa che non sapevo fare, però credo che sia un bel segnale per le donne e comunque anche per i giovani. Oggi non esiste più cercare il posto fisso e tenerselo tutta la vita, bisogna reinventarsi a seconda dei propri sogni ma anche delle esigenze del mercato. Perfetto, allora io davvero ti ringrazio tantissimo, Cristina grazie mille di essere qui con noi, complimenti appunto per tutto quello che avete raccontato durante la plenaria, che mi ha detto molto molto interessante, mi hanno riferito e comunque ci si vede in questi due giorni di reinventing, appunto due giorni molto importanti qui al Palazzo delle Stelline. Grazie mille davvero a Cristina Parodi. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.